Sono i poliziotti e la squadra mobile a svolgere le indagini per venire a capo dell'incendio che la scorsa notte ha danneggiato una macelleria. Le fiamme si sono sviluppate all'ingresso dell'esercizio commerciale di via Alessandro Specchi nel rione di Bosco Minniti. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i poliziotti delle volanti della questura e le squadre dei vigi del fuoco che hanno spento il rogo. Ad eseguire primi rilevi gli investigatori della polizia scientifica. Per gli investigatori si sarebbero pochi dubbi sulla matrice dolosa dell'incendio anche se sono in corso le indagini per approfondire quanto accaduto. Un altro incendio è un esercizio commerciale ha commentato il candidato sindaco Fabio Granata. Qualunque sia la matrice la dinamica di questo atto sia o meno un fenomeno estortivo mi sembra evidente che la maggiore urgenza in città in questo momento sia la necessità di rompere l'omertà sulle nuove mafie cittadine. Nell'ultimo anno i segnali di un racket che vuole rialzare la testa a Siracusa sono diventati inquietanti. Fa eco Silvia Russoniello candidata sindaco del Movimento 5 Stelle senza creare allarmismi va però detto che il solido argine costituito dalla forte presenza delle istituzioni e della società civile deve essere rinsaldato.